Musica Operazione antidroga nel Foggiano a Rodi Gargani cui i carabinieri arrestano 13 persone per traffico di sostanze stupefacenti dal walzer degli AD di Antonio De Caro a Bari al congresso del Partito Democratico autonomia differenziata e comunali passando per la rincorsa agli appuntamenti elettorali del 2024 ecco un anno di politica pugliese non solo in regione l'influenza che in questa settimana di feste e natalizia ha colpito milioni di italiani non sta risparmiando la Puglia quasi mille casi in sette giorni Benvenuti a questa edizione interregionale del Tg di Antenna Sud in diretta che apriamo con la pagina politica andiamo a Roma la Camera con 200 si ha approvato la seconda legge finanziaria del governo Meloni le opposizioni sono contro e attaccano anche sul cosiddetto batto di stabilità sentiamo il nostro corrispondente da Roma Francesco Manigrasso un segnale di attenzione per italiani il taglio del comune fiscale significa più occupazione così come è successo nel corso di quest'anno abbiamo dato un segnale al mondo del pubblico impiego che avrà nuovi contratti abbiamo dato un segnale importante al comparto della sicurezza e difesa altrettanto importante per quello che sta accadendo in questo momento nel mondo abbiamo difeso la casa la blindata legge di bilancio vale 28 miliardi e contiene misure che spaziano del lavoro, le pensioni, l'energia, la casa, la sanità un segnale positivo per una manovra importante che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese ha commentato la Presidente del Consiglio Meloni che ha ringraziato la sua maggioranza per la compattezza dimostrata ma anche le opposizioni che pur nel forte contrasto sui temi hanno contribuito allo svolgimento del dibattito con l'approvazione della legge di bilancio si concentrano le risorse per aiutare famiglie e imprese e per diminuire le liste d'attesa nel settore della sanità in particolare 14 miliardi di euro permetteranno dal primo gennaio di continuare a prendere 100 euro nette in più al mese per i redditi medio-bassi questo vuol dire governare Prudenza, responsabilità e fiducia ha commentato il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti mentre per le opposizioni resta una manovra di tagli e tasse da fare invidia ai peggiori governi tecnici una manovra con cui Meloni, Salvini e Tajani continuano la stagione dei tagli e danni dei pensionati dice il leader Pentastellato Conte a farli da eco la segretaria del PD e l'Ischlein ci abbiamo dovuto pensare noi a mettere a disposizione 40 milioni per il contrasto alla violenza di genere Fare i patrioti su Facebook e poi andare in Europa e abbassare la testa con la Germania secondo me non è un qualcosa che fa bene a questo paese io trovo sia abbastanza imbarazzante il patto che ha firmato Giorgetti Nessuno sguardo sul mezzogiorno nessun nuovo investimento se non questo fantasmagorico ponte sullo stretto per cui ci stiamo mettendo solo soldi ma un progetto reale non esiste e dopodiché invece abbiamo strade, autostrade collegamenti tra città importantissime del mezzogiorno come Napoli e Bari che ancora sono lumaca E adesso parliamo ancora di politica ma andiamo a fare il bilancio del 2023 in Puglia non solo la regione l'addio di De Caro la carica di sindaco di Bari l'autonomia differenziata poi le comunali che si terranno a Bari e Lecce nel prossimo anno e che comunque hanno cominciato a far scaldare i motori della politica e poi tanti aspetti che abbiamo voluto riepilogare in questo servizio di Antonio Bucci L'anno del valzer degli addi di Antonio De Caro quello della rincorsa elettorale alle urne di giugno del congresso PD e pure del centrodestra alla prova del dopo Berlusconi il 2023 della politica pugliese si apre con la nascita del gruppo di Carlo Calenda in regione lo guida Fabiano Amati lasciando il PD ed è un lungo braccio di ferro in consiglio per capire se azione resti o meno in maggioranza tanto che l'oggetto del contendere diventa l'incarico di segretario d'aula nelle mani del centrista Sergio Clemente che alla fine resterà al proprio posto nel frattempo e via libera sulla legge per le compensazioni erargetiche a quella sullo sblocco dei crediti incagliati del super bonus mentre resta il muro contro muro con la capitale sull'autonomia differenziata tutto risolto non proprio visto che a gennaio bisognerà assegnare le presidenze di commissione febbraio e il mese del congresso dei democratici Stefano Bonaccini ha la meglio nei circoli ma poi a sorpresa Elislein lo batti alle primarie i big pugliesi si schierano a maggioranza con il presidente dell'Emilia Romagna e così la fase che segue è quella delle equilibri da cambiare non solo negli organismi dirigenti ad aprile Fiorenza Pascazio diventa presidente dei sindaci pugliesi che vedono Brindisi tornare a destra e Foggia a sinistra dopo il lungo commissariamento del comune i comuni appunto da agosto in poi è tutta una corsa a terzi mandati che non si concretizzano aspirazioni europee e totonomi dall'una e dall'altra parte che resterà frizzante anche una volta riposte le bollicine torniamo a Roma adesso per parlare dell'infinita vertenza acciaierie d'Italia ex ilva perché si registra l'ennesima fumata nera nel vertice tra governo e sindacati su questo tema il governo prende ancora tempo in attesa dell'incontro con l'azienda che è stato programmato subito nei primi giorni del prossimo anno l'8 gennaio i sindacati intanto dicono siamo ad un passo dallo scontro e l'ipotesi chiusura diventa sempre più concreta vediamo il servizio un incontro negativo peggio non poteva andare sono chiari i sindacati all'uscita da Palazzo Chigi il governo prende ancora tempo fino all'8 gennaio giorno in cui incontrerà l'azienda non c'è una posizione forte stabile nei confronti di un gruppo industriale che continua a fare quello che vuole continua a umiliare migliaia di lavoratori non fa gli investimenti ambientali la produzione a minimi termini non ci sono le minime condizioni per poter puntare su questo gruppo industriale di fatto l'esecutivo ha continuato a dire che verificherà se l'azienda sarà ancora disponibile ad aumentare il capitale secondo i sindacati i quattro anni sono stati sufficienti per giudicare un gruppo industriale che continua a prendersi libertà negative non investe non ha rispettato i termini del contratto e non tiene conto delle denunce delle organizzazioni sindacali una è quella di continuare con i mital a gestire la partita per noi non è un'ipotesi positiva l'altra è di trovare una soluzione consensuale con l'uscita dei mital per noi questa è l'ipotesi su cui insistere trovare in prospettiva dei nuovi privati ma prima di trovare i nuovi privati salire in maggioranza come è stato c'è poi l'ipotesi disastrosa dell'amministrazione straordinaria e abbiamo chiesto al governo di non considerarla assolutamente per noi aggiungono c'è un elemento di condivisione o è del tutto evidente che sceglieremo altre strade per far valere le nostre ragioni perché l'industria metalmeccanica già paga il divario che c'ha con altri paesi europei sul costo dell'energia e poi dopo si scarica sul salario se la flessibilità dei lavoratori cioè siamo stanchi di pagare il conto e il prezzo per altri si devono assumere le loro responsabilità e siccome poi dopo ci dicono ah ma voi siete contro questo governo no su Ilva diteci voi quando è che non abbiamo litigato con qualsiasi governo si è alternato in questo paese perché? perché noi abbiamo a cuore l'interesse dei lavoratori e del paese e non invece delle multinazionali adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca la cronaca nera partendo dall'operazione dei carabinieri nel Foggiano a Rodi Garganico dove ci sono stati ben 13 arresti per un'operazione antidroga sentiamo Antonella Davola gestivano una piazza di spaccio di cocaina e ascisce nell'area nord del Gargano in particolare nel centro storico di Rodi Garganico sono in tutto 13 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Foggia nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Tabla Rasa i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia catelare nei confronti dei 13 indagati di cui sei destinatari del carcere sette degli arresti domiciliari gravemente indiziati di traffico detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano hanno consentito di disarticolare un florido traffico di sostanze stupefacenti che ha interessato i comuni di Rodi Garganico Cagnano Varano Sanicandro Garganico e San Severo in particolare nel centro storico del comune di Rodi Garganico alcuni indagati gestivano una piazza di spaccio di cocaina e ascisce acquistati da tre fornitori anche essi identificati e sottoposti a misura cautelare residenti rispettivamente a San Severo Sanicandro Garganico e Cagnano Varano la necessità di non interrompere il giro d'affari derivanti dalla compravendita al dettaglio di stupefacente avrebbe indotto gli indagati ad adottare spedenti finalizzati a iludere eventuali controlli delle forze di polizia ricorrendo anche allo spaccio a domicilio ovvero alla consegna diretta presso gli acquirenti durante le investigazioni i carabinieri hanno di fatti accertato un mutamento delle modalità di cessione al dettaglio della droga che sarebbe stato attuato per disorientare gli investigatori che avevano proceduto a serati controlli e al sequestro di stupefacente nei pressi della piazza di spaccio gestita dai principali indagati nel corso delle attività investigative infatti sono stati effettuati quattro arresti in flagranza di reato e due denunce a piede libero per detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente nonché contestati 11 illeciti amministrativi ad altrettanti acquirenti e sequestrati complessivamente 700 grammi circa tra cocaina e hashish siamo costretti a raccontarvi dell'ennesimo incidente stradale mortale che si è verificato in Puglia sulla strada Trani Corato due morti nove feriti sentiamo Maria Fiorella prima il malore poi lo schianto così sono morti Vincenzo Lafiandra e Savino Calvano di 37 e 82 anni gravi due figli di Lafiandra due bambini di 1 e 6 anni in codice rosso anche la mamma dei due bambini una donna di 37 anni che ha riportato gravi feriti alla testa coinvolte nell'incidente altre 5 persone a bordo della terza auto coinvolta affidate alle cure di primo soccorso dei sanitari del 118 intervenuti sul posto e il tragico bilancio dell'incidente avvenuto alle 18 circa di venerdì 29 dicembre appena due giorni dopo l'ultimo scontro registrato sulla stessa strada della sesta provincia pugliese anche in quel caso tra i mezzi coinvolti e diversi feriti Savino Calvano viaggiava a bordo della sua auto una Peugeot 3008 sulla provinciale 238 in direzione Corato quando avrebbe avvertito un malore e avrebbe perso il controllo del mezzo è finito oltre la sua corsia invadendo quella sulla quale viaggiava nel senso opposto di marcia la Suzuki con a bordo la famiglia Lafiandra l'impatto è stato fatale pochi attimi dopo una terza auto un'Opel Meriva che proveniva da Corato ha impattato con la vettura di Lafiandra a bordo di quest'ultima oltre il conducente viaggiavano altri quattro passeggeri tutti feriti la moglie di Lafiandra che sedeva al lato passeggero ha riportato gravi feriti alla testa ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bonomo di Andrea insieme a sua figlia di appena un anno nella stessa auto l'altro figlio della coppia un bambino di sei anni trasportato d'urgenza al di Miccoli di Barletta un doppio schianto che ha coinvolto nel complesso nove persone sul posto una imponente macchina dei soccorsi carabinieri orpidali lamiere la polizia locale è intervenuta per chiarire la dinamica dell'incidente su una strada a doppia corsia che non smette di far registrare tragici bilanci l'omicidio Ladisa a Bari la postura con cui il presunto killer avrebbe sparato sarebbe stata della vittima pensate omicidio Ladisa dunque che fa registrare importanti sviluppi nelle indagini questa comunque è la versione fornita dagli inquirenti dal 34enne Daniele Musciacchio ritenuto responsabile dell'omicidio del cognato venuto nel quartiere Libertà di Bari vediamo gli aggiornamenti nel servizio di Antonella Fazio avrebbero da prima discusso con toni accesi poi la colluttazione durante la quale il 42enne avrebbe estratto una pistola che però gli sarebbe caduta dalle mani il presunto killer così l'avrebbe raccolta e forse preso dalla rabbia avrebbe fatto fuoco ed esploso almeno quattro colpi sarebbe questa la ricostruzione fornita agli inquirenti dal 34enne Daniele Musciacchio presunto killer e cognato di Nicola Ladisa l'uomo di 42 anni ucciso in via canonico Bux nel rione Libertà di Bari almeno quattro i proiettili che hanno centrato la vittima ad addome torace secondo quanto emerso finora dalle indagini della squadra mobile del capoluogo coordinate dalla procura di Bari il movente del delitto sarebbe da ricercare in dissapori di natura economica legati a un'eredità lasciata dal padre della vittima morto l'anno scorso a lui e a sua sorella si tratterebbe di alcuni appartamenti del garage in cui lavorava il 42enne e di un lido balneare a Palese il mancato accordo tra i due avrebbe inescato continui litigi diventati frequenti negli ultimi tempi discussioni che avrebbero coinvolto anche i rispettivi coniugi poi l'ultima lite e l'omicidio il corpo del 42enne già noto alle forze dell'ordine e a medicina legale del policlinico di Bari dove il professor Antonio De Donno eseguirà l'autopsia Ergastolo confermato per il femminicida Pietro Dimitri il 12 ottobre di due anni fa uccise la sua convivente Giuseppina Loredana di Noi a Manduria la vicenda giudiziaria ci viene raccontata da Marzia Baldari Ergastolo confermato per il reo confesso Pietro Dimitri il 76enne manduriano sotto processo con l'accusa di aver ucciso la convivente Giuseppina di Noi 71 anni il 12 ottobre di due anni fa un epilogo non scontato dal momento che la difesa dell'imputato aveva proposto all'apertura dell'appello di chiudere il procedimento con una pena concordata a 24 anni di carcere non è stata dello stesso parere la Corte d'Assise d'Appello che ha respinto la richiesta di concordato procedendo con la discussione poi il verdetto dopo due ore di Camera di Consiglio la difesa si era soffermata sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione degli attenuanti generiche sulla quale anche la pubblica accusa aveva aderito ritenendo congura la pena a 24 anni ad opporsi il legale delle parti civili i familiari della vittima fratelli e sorelle avvocato che ha insistito sulla violenza subita dalla donna 55 fendenti inferti con un tagliarino e nessun pentimento dell'imputato per la vittima venite ho ucciso la mia compagna aveva detto l'uomo al telefono ai carabinieri subito dopo il delitto confessando l'omicidio per poi procurarsi delle ferite sempre per la cronaca andiamo a vedere qual è la situazione sul fronte criminalità a Brindisi il nostro Davide Cucinelli ha avvicinato e ascoltato il procuratore capo De Donno un 2024 di legalità e questo è il messaggio del procuratore capo di Brindisi Antonio De Donno in vista del nuovo anno con un'attenzione particolare al mondo del lavoro al passaggio all'economia green e anche rischi occupazionali che possono ovviamente aprire anche scenari di illegalità un momento di attenzione particolare sull'economia del territorio che possa essere anche un volano di sviluppo ma soprattutto un messaggio di legalità per tutto il territorio brindisino c'è una fase di transizione verso il green che potrebbe penalizzare il territorio se non adeguatamente compensata e noi siamo attenti a questi meccanismi perché è chiaro che possono incidere sul mercato del lavoro e per noi un arretramento del mercato del lavoro è sempre qualcosa che va preso in seria considerazione perché la mafia va ad attingere proprio nei settori in cui lo schierostato abbandona e allora vi è questa esigenza di una sinergia anche qui molto forte delle istituzioni e anche della rete imprenditoriale perché non ci sia nessun arretramento sotto questo profilo nei prossimi anni il sistema giustizia è interessato che le condizioni di legalità abbiano un risvolto di tipo sostanziale sul territorio non siano solo predicati così formalmente ma poi abbiano risvolti forti lo Stato deve dimostrare di essere presente e di dare alla legalità un suo contenuto ben preciso però insieme allo Stato ci devono essere tutte le realtà del territorio che devono imparare a fare rete per costruire un futuro che sia un futuro più appetibile specialmente per i giovani da Brindisi a Matera quali sono le maggiori criticità in tema di sicurezza nella provincia materana lo abbiamo chiesto al colonnello russo comandante provinciale dei carabinieri di Matera comandante sul terreno della criminalità e della micro criminalità dal suo osservatorio privilegiato c'è un ambito che fa registrare una particolare criticità a Matera e provincia? quello che registriamo è fortunatamente insomma non abbiamo una grossa presenza di criminalità autoctona soprattutto nella fascia confine con la Puglia anzi molto spesso insomma i furti che si verificano soprattutto ripeto nella fascia ridosso si tratta di trasfertisti che arrivano dalle vicine località del Foggiano o della Murgia Barese e su questo infatti abbiamo e cerchiamo di insieme alle altre forze di polizia di aumentare la sorveglianza sia fisica con le nostre pattuglie lungo le principali alterie in primis la bradadica e sia abbiamo chiesto insomma tramite la prefettura e gli enti preposti l'intensificazione dei servizi dei sistemi di videosorveglianza questo per prevenire e quantomeno riuscire a contenere questo fenomeno la pagina politico-amministrativa ci porta a Lecce dove questa mattina il sindaco Carlo Salvemini ha tenuto una conferenza stampa per fare il bilancio di quanto accaduto nell'anno che si sta per concludere ma con uno sguardo al futuro perché come sapete è ricandidato alle comunali a Lecce per il 2024 ma non solo lo sguardo rivolto verso il futuro ma anche verso il centro-destra per comprendere quale sarà il suo antagonista sentiamo Maria Teresa Carrozzo Sindaco possiamo dire che per lei è iniziato il miglio verde qual è l'errore che proprio sente di aver commesso e che avrebbe potuto evitarselo? Il miglio verde inteso come avvio alla fine della consigliatura abbiamo tante cose ancora da fare quindi gli errori da commettere ce ne possono essere ancora altri sinceramente non affido a voi la valutazione degli errori da evitare o dei risultati positivi raggiunti dall'altro i sindaci si sottopongono periodicamente a una verifica politica anche proprio per dare a tutti la possibilità di manifestare un proprio giudizio Salvemini contro tutti una conferenza stampa di fine anno come tradizione per illustrare obiettivi raggiunti e prossime valutazioni il sindaco si confronta con la stampa da solo seduto in solitaria e gli assessori e qualche consigliere seduto tra stampa e pubblico un bilancio inattivo secondo Salvemini ma ad esporlo è solo i suoi assessori non relazionano sui progetti la parola la tiene sempre e soltanto lui e alle nostre domande in merito al candidato del centrodestra che a giorni dovrebbe uscire e sfidarlo lui dice il centrodestra ancora non ha presentato un proprio candidato pensa che questa la stia agevolando perché intanto lei è già partito a gamba tesa con la campagna elettorale oppure stanno caricando una strategia ma io non credo che sto agendo a gamba tesa io sto lavorando ogni giorno mi impegno a portare a compimento gli obiettivi di mandato i nostri avversari sono ancora impegnati nell'individuazione di un profilo da offrire alla città quanto questo mi avvantaggi non lo so quale sarà il risultato non lo so non so neanche se questa attesa corrisponda a una strategia elettorale o afferisca invece difficoltà di scelta tra i profili potenziali e saranno pronti a indicare il nome o i nomi io mi confronterò con loro intanto a Torre Santa Susanna che è un comune provincia di Brindisi si registrano le improvvise e in attese dimissioni del sindaco Saccomanno questo potrebbe creare qualche scricchiolio all'interno dello schieramento di competenza e questo lo vedremo tra poco nella TG di Brindisi ma intanto siamo andati a tastare il polso ai cittadini di Torre Santa Susanna sentiamo Michele Iurlaro Signori Saccomanno si è dimesso? Non riesco a capire io non so non so nulla il comune di Torre come vedete è assolutamente chiuso c'è nessuno dovevamo bussare in comune chiuso come ogni sabato mattina nessuno ne sa niente nessuno risponde e anche la sede di Fratelli d'Italia appare deserta ecco anche la sede di Fratelli d'Italia che è chiusa tutto chiuso e allora il mistero legato alle dimissioni del sindaco Michele Saccomanno resta irrisolto anche in paese per quanto il fulmine a Celsereno si è commentato un po' da tutti tra i bar e le strade di Torre Santa Susanna da questa mattina senza più una guida dimesso il sindaco Saccomanno si è dimesso come la vedete voi cittadini io veramente non si vede manco niente e ora c'è il rischio di commissariamento non lo so non lo conosco nemmeno a noi veramente non è che tanto lo paese è morto e lo paese più morto è basta era un argomento proprio che di cui si discuteva non è un bel gesto agli occhi della cittadinanza c'è poco da fare ma il motivo giochi di potere all'interno della maggioranza guarda sappiamo poco non sappiamo io non so per quale motivo si sia dimesso non lo so penso che ci sia qualcosa che non vada noi ci aspettiamo sempre che chi ci governa faccia sempre qualcosa per il bene dei cittadini si è dimesso a sorpresa io non so niente guarda non dispiace come lo conosco io è abbastanza bravo di dispiagire di dispiace perché è un paesano nostro è chiaro questo servizio ci fa capire quanto sia distante la politica dai cittadini parliamo di Torre Santa Susanna un comune certamente non grandissimo eppure la gente non capisce non sa perché il sindaco si è dimesso alcuni addirittura non sanno neanche che si è dimesso e questo deve far riflettere soprattutto sul rapporto che si sta deteriorando tra politica e cittadini ne parleremo diffusamente prossimamente intanto parliamo dell'influenza che entra gamba tesa in Puglia mille casi in meno di una settimana febbre tosse raffreddore e mal di stomaco è un Natale sotto le coperte per 900.000 italiani colpiti da influenza e la Puglia è tra le regioni con incidenza più alta il virus influenzale ha raggiunto il picco proprio in questi giorni festivi 979 sono i casi di influenza rilevati in Puglia con un tasso di incidenza pari a 11,2 casi ogni 1000 assistiti la popolazione più colpita rimane quella dei bambini nella fascia di età tra 0 e 4 anni e quella degli adulti dai 15 ai 64 anni i sintomi sono quasi indistinguibili da quelli da covid-19 molte farmacie sono state prese d'assalto in crescita proprio le infezioni da covid-19 con il ritorno dei ricoveri negli ospedali sempre in Puglia dai dati del Ministero della Salute nella settimana pre-natalizia dal 14 al 20 dicembre si è passati da 3.607 contagi rilevati a 4.450 cresciute anche le vittime da 12 a 19 la prima regola è stare a casa a riposo per favorire recupero e per non contagiare gli altri e soprattutto bere molta acqua per reintegrare liquidi e sali minerali pasti leggeri e nutrienti soprattutto frutta di stagione in vista del capodanno evitare baci e scambi affettuosi meglio rimandare tutto al 2024 il Lecce in campo sta giocando nell'anticipo dell'ultima partita dell'ultima giornata di Serie A nel 2023 si gioca a Bergamo Atalanta-Lecce vediamo il risultato e gli aggiornamenti velocemente con il nostro inviato Pierandrea Farigliula allora Pierandrea Atalanta-Lecce buongiorno direttore buongiorno a tutti proprio in questo istante siamo al 54esimo minuto e il Lecce è andato vicinissimo al gol del vantaggio con Christovic sotto un traversone messo in mezzo da Kaba quindi ricordiamo velocemente 0-0 tra Atalanta e Lecce il secondo tempo iniziato da 10 minuti se vuole vado alla lettura e alle formazioni altrimenti direttore ci aggiorniamo più tardi ci aggiorniamo più tardi durante il nostro TG di Lecce che inizierà alle 14.45 anche per andare a riepilogo di questa partita grazie per Andrea Farigliulo ci fermiamo adesso il via al telegiornale dedicato alle province di Bari Battefoggia noi ci vediamo alle 14.15 per il TG di Taranto rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo il TG di Taranto .